Preghiera del mattino Signore, la nostra preghiera per la santità degli sposi cristiani e per l'influenza durevole del loro amore sui loro figli è tanto più urgente quanto più ci rendiamo conto delle pressioni di cui possono essere vittime per via della mancanza di un sostegno concreto o di un aiuto o per via di problemi di alloggio. Insegnaci a riconoscere che tali difficoltà sono sempre opportunità per aiutare il prossimo e per dimenticarci di noi stessi. Amen